Quello che cos'è il... scusa? Ho capito che dobbiamo fare! Ma... Eeeh... Allora, contestualizzando il tutto, i leaker non vedono, sentono soltanto, il problema è che in base a come sono posizionato, a parte che mi sta toccando il piede destro, chiaramente, però va bene, non posso né scendere né salire, per citare il buonaldo praticamente, quindi... Che dobbiamo fare?